Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno oggi è una giornata importante, sono contento di vedere questa sala piena. Beh, io direi che Genova ha lavorato bene, posso dirlo chi ha retorno, bene, con gli organismi di Roma per avere questi risultati e definire quello che è il nostro piano di risultato nazionale di ripresa e resistenza per Genova, la città e la Liguria. C'è ancora una cosa da fare, devo dire in due secondi. Voglio dire una cosa importante, quello che arriva qui a Genova, vi faccio un esempio unico perché questo esempio lo dice per tutti, la Diga, la nuova Diga, la nuova Diga è un investimento per Genova, certo, ma è un investimento per tutta l'Italia, è un investimento per tutta l'Italia, è un investimento per tutta l'Europa, non possiamo pensare che questi investimenti siano solo per la nostra città. Noi ne siamo un fulcro, noi ne siamo un motore, noi ne siamo le braccia operative perché quello lo mette in pratica, ma questi andranno a vantaggio nei prossimi 20, 30, 40 anni di tutto un sistema molto più avanzato, molto più largo e molto più esteso di quello che è la nostra città. Questo è importantissimo, perché come tutti sanno, l'impianto nazionale di crescita e di resilienza non deve soltanto dare risorse sui territori, ma deve fare in modo che queste risorse producano, come anche altri effetti negli anni semplici, che siano motori di ripresa e di crescita economica. La Diga è un classico esempio, ma ce ne sono tantissimi altri che poi dopo vi daremo a città. Grazie. Grazie.